Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Proseguiamo con i nostri GDR, anche perché ve l'ho detto, cercherò, nel limite possibile, se avrò manuali da presentarvi, sempre di portare alternati giochi da tavolo e giochi di ruolo. Ovviamente quando magari ci avrò un po' meno giochi di ruolo da trattare, porterò nel canale anche un po' di giocate di ruolo, quindi gameplay, come avete visto, quello di Alien e cose varie. Oggi vi voglio presentare The Expanse, il GDR, l'RPG, a cura della Green Ronin, manuale che in Italia non è ancora stato editor a nessuno, non l'ha presa ancora nessuno, infatti la Green Ronin sono americani di Los Angeles, mi sembra qualcosa del genere, che intanto colgo l'occasione per ringraziare, grazie davvero ragazzi di cuore, immensamente per avermi mandato questa copia, tra l'altro dall'America, per la recensione avermi dato la possibilità di recensirlo. E intanto premetto subito che utilizza l'Age System, Age System già visto in tanti altri giochi di ruolo, che prevede il lancio di 3D6 e a questi 3D6 ci dovete sommare l'abilità del personaggio e ci dovete sommare anche ovviamente tanti altri fattori, come potrebbero essere le armi, le circostanze varie e il focus sull'abilità, ma quello ve lo spiego successivamente. In questo Age System, per farvelo veloce, tutti i personaggi hanno, soprattutto qui nell'ambientazione di The Expanse, 9 caratteristiche principali, che qui vengono chiamate abilità. In queste caratteristiche dovete metterci tot punteggi e poi quelle caratteristiche fanno anche parte dell'abilità. Ad esempio, se io voglio andare a sparare con un fucile, vado su Accuracy, non c'è bisogno anche di l'abilità Armi da Fuoco, basta l'Accuracy. Se voglio andare a sfondare una porta, non c'è bisogno magari di un'abilità che si chiami Forza Bruta, faccio un esempio, ma userò direttamente il tiro di Forza, così per resistere ai danni sarà la resistenza e varie cose. In più però questo gioco qui ha i focus, focus che sono specializzazioni che danno più 2 punti minimo e più 3 punti massimo in una data abilità, che ne so, io ho Accuracy per sparare con i fucili, però voglio diventare un cecchino, uno bravissimo, quindi prenderò un focus in Armi da Fuoco, per farvi l'esempio, e a quel punto avrò un più 2 di punteggio bonus alla prova, quindi 3 di 6 più la caratteristica, più il bonus, come vi dicevo, del focus, più ovviamente altri bonus e malus che potrebbe decidere Dungeon Master. L'ammettazione di The Expanse, ragazzi, è uno spettacolo. E anche qui voglio fare una premessa. Allora, tante volte, no? Si dà per scontato che l'opera letteraria, il libro, sia meglio del film o della serie televisiva, no? Si potrebbe fare 100.000 esempi dove, ad esempio, il film di It, sia quello nuovo che quello con Tim Curry, siano due film bellissimi, non ci piove, vabbè, film o tra virgolette miniserie. Bellissime. E lì siamo tutti d'accordo. Però il romanzo di Stephen King di It è molto più bello. Un po' come anche Tommy Nockers, Le creature del buio, o Le notti di Salem. Sono molto più belli i romanzi che non i film. Però non è sempre così. Cioè, vi faccio l'esempio. Quando io da piccino mi lessi il libro di Michael Crichton, Jurassic Park, prima lessi il libro, anticipatamente. E dopo vidi il film. A me è piaciuto più il film. Io, infatti, ammetto, secondo me è venuto meglio il film di Jurassic Park che non il libro. Anche perché il libro, in certi punti, era un po' troppo violento. Insomma, un po' te la faceva prendere un pochino male. Te lo occupiva un po' come ambientazione. Era molto più truce. Però, insomma, mi è piaciuto di più il film che non il libro. E sono pochi i casi, sono rari. Ad esempio, The Witcher, mi piace molto più il videogioco del libro. Se dovessi dare un voto al libro, li darei 8. Se dovessi dare un voto alla serie, scusate, al videogioco, li darei 10. Ma anche 10, 10 più. Ed Expanse è uguale. Ho provato a leggere il primo romanzo, che se vi ricordate poi c'ho anche il board game, qua su dietro della Pendragon, che ringrazio ancora una volta. E dicevo, ho provato, ho finito, non ho provato, ho finito di leggere il primo romanzo dopo aver già visto tutta la serie televisiva. A parte che il romanzo è prettamente differente su tanti temi, che andiamo a vedere d'ambientazione. Ad esempio, nella serie televisiva, l'avete visto, i cinturiani non volevano usare gli effetti del Signore degli Anelli, dove gli hobbits sono piccini e magari gli umani altissimi. E sì che, o gli elfi, ad esempio, sì che cosa hanno fatto? Gli hanno fatto quella specie di collarino aperto. Se vi ricordate che tutti quelli che c'hanno, tipo Naomi Nagata, che nel romanzo poi non ce l'ha, c'hanno quella specie di collare spaccato aperto come tatuaggio, vuol dire che sono cinturiani. Mentre invece i cinturiani, come abbiamo visto nel primo episodio della serie televisiva, sono, per il fatto che c'è bassa gravità sulle lune dove abitano alla fin fine, sugli avamposti o comunque sulle stazioni orbitali, su Ceres, nelle vicinanze sempre di Giove, o sulla stazione di Tychus, sono nati senza gravità o con gravità artificiale o con gravità bassissima. Perché si parla addirittura di gravità 0.1 o 0.3, quella della Terra, rispetto a quella della Terra. Quindi una gravità bassissima. E immaginatevi, i primi che ci sono arrivati hanno dovuto adattarsi. Ma chi c'è nato e chi soprattutto generazioni, dopo generazioni, figli, figli dei figli e quant'altro, sono nati molto più magri, perché non hanno bisogno di una massa corporea pesante per vivere in una gravità così rarefatta, praticamente, o quasi del tutto artificiale, e sono alti. Quindi una figura che nasce in un pianeta con 4 volte la gravità della Terra sarà basso, alto magari 1,20 m e peserà 90 kg, perché è normale la forza di gravità ti spinge verso il basso e anche comunque le forme corporee devono seguire dei dettami della fisica. E appunto i cinturiani sono alti, quello più basso di tutti, proprio da dire come da noi un alto 1,50 m, 1,60 m, dall'ora è più basso 1,85 m, 1,90 m. E i cinturiani arrivano anche come di, l'uomo più alto della Terra avanti è 2,10 m, i cinturiani arrivano anche a 2,50 m, cioè sono veramente alti. Infatti il detective Miller e Naomi Nagata, ad esempio, che sono due cinturiani, sono altissimi. Cioè nella serie televisiva Naomi Nagata e Miller sono alti come James Holden. Nel romanzo invece, fate conto, gli arriva qua, gli arriva quassù il detective Miller a James Holden. Infatti lui nel primo romanzo lo dice, avrei voluto, era magro, era alto, quel detective un po' sborone, avrei voluto prenderlo perché ero più grosso di lui, sbatterlo a terra e picchiarlo. Però come fai, come cerchi di intimorire qualcuno a cui gli arrivi al petto? A malapena, capito? Perché è vero, uno può essere secco, però se quando gli parli lo guardi così è normale che riuscirai poco a intimorirlo. E questa è la sostanziale differenza. Comunque l'ambientazione di Expanse mi piace da morire perché intanto è uno sci-fi spaziale molto, molto, molto scientifico e fisico. Quindi dimenticatevi, non faccio spoiler, però dimenticatevi viaggi nell'iperspazio, viaggi alla velocità della luce, dimenticatevi portali, buchi neri o wormhole che vi spostano in altre galassie. Insomma, dimenticatevi tutto quello che avete visto in Star Wars, Star Trek o cose del genere. Qui i motori delle navi, c'è tutta quanta una storia, si chiamano motori Epstein. E questi motori Epstein, creati da un marziano, da un abitante del pianeta di Marte, che era Solomon Epstein, sono motori che... il problema qual è dei viaggi spaziali che abbiamo oggi? Vi faccio questa premessa, poi ve lo faccio vedere in manuale. Il problema dei viaggi che abbiamo oggi è che, ve lo sapete, legge della fisica vuole che per dare spinta a un oggetto e velocità a un oggetto, ovviamente ci vuole, soprattutto nello spazio, come aereo, cose del genere, shuttle, carburante. Quindi bisogna anche vedere la massa rispetto ai motori per la spinta, la massa dell'oggetto che si vuole spostare nello spazio. Più è grande la massa, più spinta ci vuole. Quello siamo tutti d'accordo. Il problema è che mettendo il giusto carburante, magari per un motore potentissimo, per farti arrivare in sette mesi un equipaggio su Marte, ci vuole tot combustibile liquido all'interno dei tank, che poi vanno nel reattore per la combustione. Se noi più carico mettiamo di liquidi, più grande diventa la massa dell'oggetto e quindi ci vorrà ancora più spinta per muoverla. E questo è un pochino il paradosso, perché per muovere qualcosa di una certa grandezza che porti, non lo so, 50 persone su Marte, ci vorranno dei motori che spingano quella data massa. Però quella data massa la devi ricalcolare che poi andrà a leggerizia a piene cisterne. Quindi con il massimo, assolutamente, del combustibile all'interno per fare il viaggio alla rotta, magari, si spera, andata e ritorno a Marte, Terra. E quindi il problema era quello. I viaggi spaziali duravano mesi. Insomma, come potrebbe durare nella realtà? Beccando la finestra di lancio dalla Terra a Marte ci potrebbero volere otto mesi. E l'ambientazione del gioco vuole che praticamente le prime astronavi costruite dalla Terra vendero mandate su Marte. Anche perché Marte è il nostro pianeta tra 500.000 virgolette gemello, quindi un Earth-like, in gergo dire come pianeta, e per spostare la vita su un pianeta che potrebbe ospitare la vita. Perché sì, si può passare anche a temperature di meno 50, meno 100 gradi negli inverni marziani, però si può arrivare anche all'estate marziane con temperature di 15-20 gradi. Quindi comunque non c'è ossigeno, non c'è niente, l'atmosfera c'è, ma è molto rarefatta. E il campo gravitazionale di Marte è un tiri che è quasi esistente, ma sicuramente è molto più rarefatto di quello della Terra, dovuto a impatto con asteroidi. E sì che ce la puoi portare alla vita. È difficile vivere su Marte, però comunque ci si potrebbe vivere con le giuste strutture. I primi viaggi dalla Terra portarono l'uomo su Marte. Ovviamente da Marte le prime strutture avevano bisogno di risorse, non le potevi trovare su Marte. Quindi c'erano viaggi di questi cargo dalla Terra a Marte, dalla Terra a Marte. E Marte era una colonia della Terra. Fino a quando praticamente la Terra, iniziando a... Anche perché per quello si fanno viaggi per spaziali. Iniziando a finire le risorse, e poi ovviamente anche a livello di nascite demografiche molto molto più alte rispetto ad oggi, il fabbisogno sulla Terra era praticamente diventato impossibile da gestire, e quindi l'uomo venne spostato verso anche altri punti. Qui, ad esempio, in questo gioco c'è Ress colonizzata. Ad esempio ci sono stazioni anche... c'è una serra su Ganimede, una delle lune di Giove. Per non parlare poi di Titano, di Saturno, insomma, e tanti altri Europa, parlando sempre di Giove. Insomma, sono tutte quante lune colonizzate o stazioni spaziali. E questo fa bisogno di risorse e tutto quanto fin quando Marte non divenne, e dopo ovviamente, dopo decine e decine e decine di anni, generazioni, non divenne indipendente. Aveva le sue risorse per andare avanti. Tanto che, mancapa lo butto giù, si iniziò a costruire una propria flotta. E la flotta marziana, nel giro di non molto tempo, divenne più forte di quella della Terra. Quella della Terra, che nel frattempo la Terra si era radunata in un'unica organizzazione a comandare tutti, che sono le Nazioni Unite. Quindi anche come ambientazione è molto, molto attuale, se vedete nei nomi è tutto. E fecero questo congresso, che la sede era in America, guarda caso, New York. E fecero questa sede, da dove dirigevano tutte quante le operazioni. E Marte chiese l'indipendenza, perché ormai aveva la sua flotta, che come vi ripeto, Marte si adeguò molto più sul lato militare. Quindi la flotta di Marte è la metà, forse anche un terzo di quella della Terra, ma è molto più forte, almeno il doppio, come navi da guerra e da battaglia. Marte divenne indipendente, a quel punto lì la Terra che cosa disse, per farvi un sulto dell'ambientazione di The Expanse? Disse no, non va bene perché voi siete la nostra colonia, quindi noi l'indipendenza non ve la diamo. Si mandarono le flotte contro, si incontrarono a metà strada, stava per scoppiare la prima guerra galattica, stupidi, appena colonizzato un pianeta, già a farsi guerra, però invece sia le Nazioni Unite che la appena nata repubblica congressuale marziana fecero la pace e a quel punto non ci fu nessuna guerra. Si andò vicini ancora a una seconda guerra, anni e anni dopo, però ancora una volta fu trovata l'intesa politica. Magari succedesse oggi ai tempi nostri, prendiamo spunto da James Corey che ha scritto il libro, dai due autori, e praticamente non scoppiò nessuna guerra, però Marte non gli avevano ancora riconosciuto l'indipendenza. L'indipendenza come li hanno riconosciuti all'inizio? Vi ho detto che questo Solomon Epstein è quello che inventò il motore Epstein, che poi tutte le navi del gioco utilizzano, che è un motore che fa muovere navi di qualsiasi massa, con pochissimo combustibile e con una velocità supersonica. Quindi non vi dico arrivare alla velocità della luce perché niente ci arriva, però arrivare a 10-12 g tranquillamente di velocità, con pochissimo combustibile a bordo. Quindi fate conto, laddove serviva una nave che era praticamente una cisterna di combustibile, prima dei motori Epstein, ora serviva un piccolo serbatoio da ricaricare all'arrivo e tornare. Ma soprattutto ai tempi, perché laddove ci volevano 7 mesi per arrivare su Marte, ora nel giro di 72 ore ci arrivavi. Cioè nel giro di 3-4 giorni, massimo, 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 andando a un g di velocità, 5 giorni. Cioè 5 giorni contro 7 mesi, capite la differenza. E se che l'inventore che tra lato ci è morto, perché nel primo viaggio che ha fatto col suo stesso motore Epstein, non è riuscito a fermarlo e ci è morto, perché De non aveva ancora la tuta, non sapeva come fermarlo, non aveva ancora il juice da iniettarsi dentro le vene a livello spinale per solidificare il fisico, resistere a quei g lì, nemmeno un robot ci potrebbe resistere, te la cartoccia, e sicché non riuscì a disattivarlo un tempo e ci morì. Però dette comunque prova il creatore, essendoci morto, che il motore Epstein funzionava. E si dice che lui sia ancora lì oggi, che viaggia alla deriva, chissà dove, a 2000 g di velocità. E Marte propose alla Terra di regalare il progetto del motore Epstein in cambio dell'indipendenza. E quindi la Terra riconobbe, le Nazioni Unite riconobbero l'indipendenza alla Repubblica Congressuale Marziana. Poi fra queste due fazioni, ovviamente cosa fai? Due è un numero schifoso, ce ne mette una terza per fare casino. I cinturiani si misero insieme per creare l'OPAI. L'OPAI praticamente non è tanto... Cioè tutti li vedono come terroristi, sia marziani che la Terra li vedono come terroristi. Però il fatto è che non sono terroristi, sono cinturiani che si sono rotti le scatole ed essere visti come schiavi sia da Marte che soprattutto dalla Terra era dalle Nazioni Unite, cinturiani, quelli secchi e alti che vi ho detto, e sono praticamente... Vivono nella cintura che è la fascia d'asteroidi che va da Marte a Giove. Proprio nel mezzo c'è questa fascia d'asteroidi. E loro vivono lì. Però sono visti come... Li fanno fare lavori sporchi, li fanno andare a minare le comete per magari prendere ghiaccio e risorse che potrebbero servire acqua e cose del genere. Quindi sono visti come gli schiavi. E ovviamente sono pagati in ascemata rispetto a quello che pagherebbero altri equipaggi più specializzati. Si sono rotti le scatole e si sono ribellati. E quindi c'è questa terza fazione nel mezzo che cerca di minare sia un po' Marte che la Terra che poi ovviamente per alcuni fatti successi nel primo romanzo e nella prima stagione che non vi vado a spoilerare Marte e la Terra si troveranno in guerra, no? Con nel mezzo ovviamente l'OPA che cerca di fare il bello e il cattivo tempo e prendersi la fetta che si meritano per la libertà dei cinturiani. Però dopo questo sunto insomma, pensavo breve ma abbastanza lunghina alla fin fine, è un'ambientazione voi iniziate a giocare fate conto che è ambientato fra la prima e la seconda stagione della serie televisiva e nei romanzi è ambientato fra il primo e il secondo senza fare spoiler dopo la battaglia di Caliban. Quindi chi ha letto il romanzo e ha visto la serie dopo la battaglia di Ganymede e non vi dico nient'altro quindi nelle vicinanze di Giove inizia l'ambientazione dove è ambientato questo gioco e vi faccio vedere un pochino com'è. Copertina del gioco tirata a lucido bellissima l'unica cosa ragazzi se vi posso dare un consiglio se siete fanatici di The Expanse ma anche dello sci-fi ordinatelo l'unico problema è che bisogna ordinarlo dall'America quindi c'è da pagare anche la dogana e cose del genere io spero che qualcuno lo porterà in Italia vi prego Weird Edizioni o chiunque al mondo portatelo in Italia perché anche a Revella un italiano lo ricompre assolutamente perché è bellissimo e qui vedete insomma le tre fazioni vabbè tre fazioni quella al centro è Naomi Nagata della Rosinante non è una fazione comunque è una cinturiana quindi vedete le tre fazioni principali i cinturiani lei a Vasarala sottosegretario delle Nazioni Unite e di qua vedete un'armatura potenziata che sono arte due metri e mezzo mostruose dei Marine della Repubblica Congressuale Marziana questa dovrebbe essere penso il Sergente Draper e insomma la copertina è bella e il manuale è bello grande è ricco di pagine qui vabbè vi fa vedere il nostro sistema solare vi fa vedere insomma è un'immagine di passaggio e poi introduzione ci spiega ovviamente chi sono gli autori del libro ah c'è una storiella all'inizio c'è una storiella bellina degli stessi autori di Corey i due autori che hanno messo questo nomignolo questo pseudonimo leggetevela perché vi introduce bene l'ambientazione vi fa l'ambientazione vi dice chi è come è venuta fuori l'idea quanto tempo ci hanno lavorato insomma vi dà la prima piccola infarinatura sono l'ambientazione di expanse che tra l'altro la prima metà del manuale scusate il primo terzo sono le regole quindi poche e facili il secondo terzo all'ambientazione l'ultima parte è quella del dungeon master e vedete che hanno utilizzato l'age system che vi ho detto è quello dei 3d6 col dado destino nel mezzo la sezione di creazione del personaggio le basics del regolamento quindi i fondamentali testabilità e come vedete testabilità il risultato dei test è sempre 3d6 voi in tutte le prove che dovrete fare dovrete sempre tirare 3d6 a parte quelle a bordo di un'astronave ma quelle sono cose a parte dovete sempre tirare le ability score ragazzi sono le caratteristiche in questo gioco le caratteristiche si chiamano abilità non è tipo alien dove che ne so agilità va sulle armi da fuoco e cose del genere qui è una cosa soltanto sono i focus quelli che contano per fare un test tirerete sempre 3d6 più l'abilità boh agilità quindi vedete il livello che avete le caratteristiche in questo gioco vanno da meno 2 a un massimo di 4 ok quindi il bonus che dovete sommare al 3d6 al tiro è il bonus della caratteristica io non sono bravo in agilità a sparare c'ho un meno 2 ok 3d6 più meno 2 che diventa un meno 2 ovviamente più oppure nel caso avessi un 3d6 più 3 più 2 standard sempre se avete un focus che ne so a me piace pilotare mi metto a pilotare a me piace sparare diventare un cecchino mi metto un focus di più 2 a sparare ricordatevi che il focus può salire di un altro punto perché quando passerete di livello potrete scegliere o un secondo focus quindi avrete più 2 a un'altra cosa voglio essere un cecchino il miglior pilota del nostro sistema solare oppure potete alzare il focus precedente di un punto che va più 3 e questo è il test per tutti 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 i tiri e poi ovviamente i disegni che ci sono sopra qui si vede un'armatura potenziata marziana una cosa bella pieno zeppo di esempi così si fa manuale regola fortuna ok esempio di come usarla oppure un'altra cosa tipi di test descrizione esempio ogni volta che vi spiega qualcosa vi fa sempre un esempio che praticamente segue segue i personaggi della rosinante come se fosse una specie di avventura libro game o una cosa del genere e poi importante in questo gioco c'è la fortuna ciascun personaggio inizia con 15-20 dipende da un tiro anche lì di caratteristica di abilità di punteggio fortuna che la fortuna serve proprio non è la fortuna che ti fa superare una prova al meglio o ti fa guadagnare dei punti al meglio la fortuna in questo gioco vi salva la vita anche perché la mortalità ma in questo gioco qua giù ragazzi io ve lo giuro ho sempre detto le due mortalità più alte che ho visto in un gioco da tavolo sono uno l'ho rimosso perché poi fondamentalmente non è così vampiri ma lo rimuovo le due mortalità più alte sono cyberpunk cyberpunk al primo scontro a fuoco ragazzi ve lo giuro col master più buono del mondo al primo scontro a fuoco sono morto perché mi ha fatto un colpo alla testa e me l'ha spappolata primo primo scontro a fuoco quindi cyberpunk è il numero uno e la leggenda dei 5 anelli dove anche lì nella vecchia edizione con un colpo morivi terza è questa anche qui se non muori con un colpo muori con due quindi tutte quante vedete anche i test tutti quanti i test le difficoltà dei test perché qui ad esempio vi da anche le varie difficoltà che possono andare per andare poi nella tabella dei test questa magari stampata la tenetevela accanto una stupidata a difficoltà 7 quindi 3 di 6 più ve l'ho detto l'abilità più il focus ha un'azione molto difficile se non dire unica impossibile che richiede difficoltà 21 insomma non è facile fare un 21 con 3 di 6 che anche se ti va bene ti fa 18 quindi comunque un focus o qualcos'altro ce lo dovrei mettere però sono tiri veramente impossibili che il game master non vi chiederà mai condizioni sono molto belle anche i disegni feriti e quant'altro ah questo gioco non ha classi quindi dimenticatevi io sono pilota io sono lo scienziato io sono il dottore io sono il soldato no questo qui tipo la vecchia ultima online te sei per come ti metti le caratteristiche quindi se ti metti bravissimo a pilotare sparare con le armi da fuoco te sei un pilota soldato quindi non non ci sono assolutamente classi prestabilite è una cosa che mi piace mi dà molta libertà in più ci sono le condizioni condizioni che possano essere stun possano essere malattie può essere anche un personaggio morente sempre una condizione tutte le altre cose che sono date dalle ferite si procede alla creazione del personaggio che vi chiede tre razze vabbè razze fra molte virgolette umani quindi delle Nazioni Unite marziani della Repubblica Congressuale Marziana oppure potete fare anche cinturiani ve l'ho detto della fascia della cintura tipo Ceres Ganymede e pianeti e stazioni del genere anche il background si tira quindi come abbiamo visto in Cyberpunk si va a tirare su una tabella e si guarda cosa viene fuori quindi per creare il personaggio sono vari step che dovete eseguire pari 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 ragazzi infatti ci vuole un po' a creare il personaggio pari 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 come avete visto nel vecchio Cyberpunk perché ad esempio tirando la tabella non decidete voi o almeno che il master non vi dica vabbè ragazzi vai decidete voi ma è normale chi vorrebbe fare il povero tutti vorrebbero fare il rico per non sempre i sordi e infatti anche il città sociale non lo scegli te ma tirerai la nascita a vedere se sei povero se sei ric e quant'altro una figata che adoro di questo gioco e qui veramente non l'ho mai trovata poi magari mia ignoranza non l'ho mai trovata in nessun altro GDR in questo gioco non esistono i soldi cioè te non hai che ne so 100 dollari 100 credit in tasca o quella che è la moneta del gioco il gioco non ti descrive neanche la propria moneta praticamente fai un tiro sul ricchezza e sul valore dell'oggetto che ne so l'oggetto ha valore 2 ok la tua ricchezza è come un tiro abilità e un bonus di caratteristica quindi che ne so la difficoltà per fare una prova ragazzi è sempre 10 una prova standard poi l'avete vista si può alzare o no può anche essere più alta ma la prova standard è sempre 10 o 11 più vari modificatori se un oggetto ad esempio costa valore 3 quindi un oggetto abbastanza costoso tipo una macchina o anche tipo un equipaggiamento un datapad particolare di ultima generazione un'arma da fuoco voi dovete andare a fare un tiro su difficoltà 10 o 11 più 3 quindi fai o 13 o 14 e dovete fare un tiro di caratteristica sul valore della vostra ricchezza con 3d6 se riuscite a fare il tiro vuol dire che avete abbastanza fondi per comprarvi quell'oggetto se il tiro lo fallite vuol dire che i vostri fondi non sono abbastanza una volta comprato l'oggetto il vostro patrimonio scende di uno perché se no uno ovviamente potrebbe secondo questo tiro potrebbe comprare tutto il mondo invece tipo dopo 3, 4, 5 oggetti che comprerete non potete più prendere altro fino a che non si arriverà in una sequenza di interlude fra un'avventura e l'altra in cui i vostri fondi cresceranno perché comunque cresceranno se siete uno ricco avete fabbriche ma se siete anche un benestante insomma da qualche parte i soldi arrivano forse anche dalla famiglia quindi comprare un oggetto è un tiro di abilità in questo gioco non è un tiro di monete stessa cosa ci sono tutti quanti i talenti che dovete scegliere all'inizio ce ne avete uno e poi ne potete prendere altri quando passerete di livello e la cosa importante arriva soprattutto nella parte finale del manuale che ora vi faccio vedere finale del manuale della creazione del personaggio che sono il maintenance quindi il mantenimento dei vostri oggetti negli interlude perché le armi si rompano delle astronavi e tutto quanto ma soprattutto in questo gioco si muore con una sola ferita o meglio si muore sarete fuori combattimento con una ferita non ci sono punti ferita in questo gioco dimenticateveli questo gioco funziona che ogni arma ha il suo valore di danno in questo gioco si tira solo il d6 quindi un'arma potrebbe fare un d6 una bomba potrebbe fare 4 d6 un cortello un d6 magari un mitra un fucile d'assalto potrebbe fare 3 d6 quindi se un'arma da fuoco prendiamo l'esempio fa 3 d6 voi andate a tirare i 3 d6 in questo gioco qui per colpire un bersaglio dovete superare la sua difesa difesa che di solito è data dal tiro armatura del giocatore più la sua agilità quindi andrete a vedere che ne so quel giocatore il valore che c'ha d'agilità più perché dovete prendere sempre un tiro di partenza di 10 che è quello standard o meno più se ce l'avete a bruciapelo non sarà mai 10 e poi ci sommate che ne so la sua resistenza la sua agilità e l'armatura magari viene fuori un tiro minimo di 13 per colpirlo voi tirate i dadi 3 d6 più l'abilità più il focus e se avete fatto uguale o di più a quel risultato lì l'avete colpito andate a tirare 3 d6 e magari tirando quei 3 d6 fate in tutto 9 danni quindi voi avete fatto mettiamo 10 voi avete fatto 10 danni quei 10 danni ora devono essere ridotti i danni vengono ridotti dall'armatura del bersaglio dal valore di armatura del bersaglio più il suo valore di resistenza quindi magari lui ha armatura 2 da 10 si scala 8 poi andate a vedere il valore di resistenza il bonus della resistenza e ha resistenza 2 quindi si scala altri 2 e si va a 6 però restano 6 danni te quei 6 danni li devi togliere e c'hai due maniere per toglierle o spendi punti fortuna un punto fortuna un punto ferita 2 punti fortuna 2 punti ferita e così via quindi dici quanti punti ferita mi sono rimasti me ne sono rimasti in tutti in tutto me ne sono rimasti 6 e li devo togliere che se non muoio ve l'ho detto anche un punto ferita basta allora usate punti fortuna ne scalate 6 che le riprenderete a fine avventura una cosa del genere e levando questi punti fortuna avrete levato 6 danni praticamente il corpo vi ha preso di striscio se no se non avete punti fortuna o non ne volete spendere dovete prendere una ferita leggera e una ferita grave io dico ok mi sono rimasti 6 punti ferita ad assorbire prendo una ferita leggera la ferita leggera ti dà accesso a tirare un dado da 6 vi dà accesso a tirare un dado da 6 tiro il dado da 6 e mi viene che ne so 4 quindi da quel 6 tolgo altri 4 ma ne sono rimasti 2 e vi ho detto con un punto ferita solo morite ok accetto la seconda ferita che è la ferita grave quindi ritiro il dado da 6 e magari mi viene 2 2 o più e praticamente l'ho assorbiti ce l'ho fatta a non venire ucciso dal colpo però sono ferito pesantemente ma se col secondo dado avessi tirato un 1 ok e fosse rimasto un altro 1 ad assorbire non posso più tirare niente perché punti di fortuna non ce l'ho ferita leggera l'ho già presa ferita grave l'ho già presa in termini personaggi a terra incapacitato e qualsiasi altra ferita o se qualcuno non andrà a curarlo sarà morto quindi come vi ho detto il sistema del gioco è molto 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 punitivo dimenticatevi di dnd dove ci avete 20 30 1000 punti ferita qui no qui basta anche un colpo messo bene un tiro di dado che ti va male ciao ciao personaggio quindi occhio agli sconti da fuoco la mappa del nostro sistema solare vedete la nostra stella mercurio che è il perito più vicino marte con i suoi due satellite fobos e demos però demos in questa ambientazione è stato distrutto quindi praticamente marte intorno ha una specie di anello un piccolo anello come saturno o come anche urano che li gira intorno appena appena perché ha questi detriti del suo satellite l'uno è distrutto e poi vedete le stazioni che vi ho detto prima tot taiko e tutte le altre e qui c'è la fascia praticamente guardando qua su vedete che direttamente alla distanza più o meno più o meno a metà strada fra marte e giove c'è la fascia the belt e qui è dove vivono i cinturiani e questa è la stazione più famosa del gioco che è dove si ambienta tutta la storia l'avete vista di miller e tutto l'altro che è praticamente ceres concludono il manuale i tipi di navi che ci sono con tutte le caratteristiche tirarmatura scafo abilità armi e quant'altro ad esempio se non erro la rosinante dovrebbe essere una piccola freighter o qualcosa del genere forse di più piccolo comunque tutti i tipi di navi che ci sono nel gioco anche e soprattutto quelle non armate i mercantili per poi arrivare alle navi da guerra più grande che sono di categoria colossal se vi ricordate anche la la donager se vi ricordate che era la nave ammiraglia della flotta di giove di marte quindi ci sono anche navi del genere che risultano come navi da guerra colossal che per buttarle giù è praticamente impossibile e le armi sono gatling gun torpedo fasma torpedo oppure ci sono anche meccanismi di difesa e la cosa più micidiale che c'è in questa ambientazione qui sono dimenticatevi fasci laser scudi deflettori non esiste niente quelle sono cavolate di altre ambientazioni la cosa bella in questa ambientazione è che l'arma più letale vedete che è molto molto attuale come ambientazione sono le bombe atomiche le testate nucleari perché praticamente anche se distrutte prese dai meccanismi di difesa di una nave da guerra grossa colossal se un missile del genere nucleare vi colpisce e da un'area di effetto che arriva a un chilometro un chilometro e mezzo come esplosione ciao donna cioè una nave grossa da guerra con un solo di quei missili viene completamente distrutta però quelle armi lì non le ha nessuno le hanno i ricchi le corporazioni di ricchi che sono veramente si contano non su due mani ma su mezza di una e soprattutto le corporazioni più grandi quindi testate nucleari sì c'è la Repubblica Congressuale Marziana e le Nazioni Unite ma nessuno sarebbe mai così pazzo ad usarle e poi tutte le regole dei combattimenti spaziali che differiscono leggermente dai combattimenti a terra però bene o male a parte impartire ordine e cose del genere le meccaniche sono quelle più parte finale che non vi faccio vedere per ovvie ragioni del manuale che è tutta dedicata al Dungeon Master quindi la dovete leggere soltanto se siete il Game Master se no questa cosa saltatela perché è piena di notizie e spoiler che un giocatore non vorrebbe mai avere il manuale è ambientato nei romanzi non nella serie televisiva però la serie televisiva è molto 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 fedele diciamo dovessi dargli una percentuale all'85% rispetto ai romanzi che differiscono a parte l'altezza dei cinturiani e l'altezza delle armature dei marini marziani però diciamo ci siamo ecco come ambientazione e tutto quanto quindi anche se non avete letto i romanzi ma avete visto la serie televisiva va benissimo tanto per manuale ve le spiega le differenze e il regolamento ci sta il regolamento è facile e veloce laddove ho dato un punto forse negativo a Corioli che mi garba da morire come ambientazione al pari di questa però laddove gli ho dato un punto negativo è che l'ambientazione qui è molto facile che la tiene in mente dei tre fazioni ragazzi OPA Repubblica Congressuale Marziana Nazioni Unite basta lì invece ce n'è 150.000 più le sotto fazioni c'è un mele riordo ogni volta devo fare un'avventura a Corioli che non è un male però mi devo ripassare tutto perché non mele ricordo prima cosa secondo me a sfavore la seconda che il combattimento spaziale fra navi su Corioli è molto più meccanico qui invece no è come un combattimento fra un giocatore e un altro guardate la distanza media lunga in chilometri centenne di chilometri tirate i dadi colpito non colpito tira armatura meno l'armatura è come spararsi fra un giocatore e un altro solo con meccaniche di comando magari ecco leggermente più raffinate ma la meccanica è quella lì quindi regolamento facile questo edge system è facile da ricordare è facile da padroneggiare la scheda anche questa è una pagina sono due perché una va bene l'equipaggiamento i talenti e le cose però le cose principali ce le avete tutte racchiuse in una pagina 9 abilità quindi nemmeno c'è da andare a impazzire come si chiamava fuoco con armi a carica a molla no 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 qui c'è solo l'agilità per sparare o la cura si quindi non dovete nemmeno impazzire e il manuale è fatto da paura impaginato da paura vi posso ritradotto bene perché è in inglese facile quindi anche un americano molto scolastico facile come inglese si legge che è una bellezza si vede che è un manuale non tradotto ma fatto per tutti e come ho detto l'unica fregatura che poi non è che bisogna ordinare dall'america quindi c'è da aspettare almeno un mesetto che ti arrivi a casa e c'è da pagarci la dogana ragazzi mi è arrivato a casa ci ho pagato 15 euro di dogana dei capirai un tammazzi di siuro mangerete una pizza a meno però ci sta veramente bene è fatto bene rappresenta bene l'ambientazione e meglio di così non lo potevano fare e poi dall'altro sul regolamento ci hanno collaborato anche i due autori dei romanzi della serie di The Expanse quindi assolutamente ci sta se le devo dare un voto per come mi è piaciuto avrei cambiato qualcosa avrei alleggerito qualcosa no il fatto delle ferite mi garba da morire devi aver paura di combattere e il fatto soprattutto è che per comprare qualcosa non c'ho da tenere conto dei soldi che ho ma è un tirabilità mi garba ancora di più quindi le do un 10 su 10 meritatissimo mi garba da paura questo è veramente il GDR di The Expanse e meglio di così non avrebbero potuto farlo perché avreste potuto prendere tanti regolamenti tipo il Cypher System Savage Worlds ce ne sono tanti open source dove te puoi creare l'autoambientazione ma qui hanno fatto veramente un lavoro impeccabile e davvero non scherzo non esacero meglio di così non poteva venire quindi grazie veramente a Green Ronin per avermene offerto una copia per la recensione gioco bellissimo se mai usciranno delle espansioni le voglio assolutamente quindi amanti di The Expanse ma soprattutto dello sci-fi scusate per questo video lungo però l'avete visto quando una cosa mi interessa ne parlo meglio e anche veramente molto volentieri chi se ne frega poi se un argomento ti interessa il video neanche lo salti e se vi garba The Expanse ragazzi comprate perché avete trovato il GDR per voi quindi 10 su 10 meritatissimo primo link è in descrizione dove acquistarlo e tutti gli altri link dei nostri social ragazzi fatevela prendere bene fatemi sapere se il video vi è piaciuto e magari lasciate un commento alla prossima